Un fine settimana di esercitazioni al Codma di Rosciano di Fano per la protezione civile. Più di 50 volontari provenienti da tutte le regioni d'Italia si sono incontrati per tre giornate di formazione per l'allestimento di una cucina da campo in caso di necessità o calamità naturali. Il corso è iniziato all'interno dell'aula del Codma dove sono state spiegate tutte le procedure da applicare e l'aggiornamento sull'HCCP e infine l'allestimento della cucina con i mezzi, le attrezzature e la suddivisione del personale a disposizione. Facciamo parte di una federazione a livello nazionale, la FIRCB, che ha parecchie dell'attrezzatura a Fano situata appunto al centro Italia. Il Comune di Fano ha dato la possibilità a FIRCB di un box per mantenere l'attrezzatura a livello nazionale. A volte si è svolto qui il training, tutti e quattro il training, logistica, segreteria, comunicazioni radio e cucina su Fano. Quest'anno siccome i numeri sono importanti, qui a Fano ci sono oltre 100 volontari del team cucina e in questo momento alle mie spalle vedete chi si occupa il cuoco, l'aiuto cuoco, la plonge, la gestione della distribuzione, la sanificazione dei materiali e dei tavoli piuttosto che il mantenimento del magazzino o la differenziata. Tutte le persone che sono venute nuove, che fanno parte del team dovranno imparare a fare esattamente all'interno le loro competenze. Ad ogni partecipante poi è stato consegnato un attestato. Alle giornate presenti anche il presidente di FirciB, Federazione Italiana Ricce Trasmissioni Patrizio Losi e Anita Vitale, funzionario del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quest'anno abbiamo inaugurato un nuovo modo di fare esercitazione di protezione civile per cercare di essere sempre più vicini alla nostra base, cioè ai nostri cittadini, per cui abbiamo diviso la nostra mega esercitazione annuale in tante piccole esercitazioni legate ai teams, cioè alle specializzazioni. Oggi siamo qui a Fano con tutto il gruppo della cucina, cioè per la nostra organizzazione, la FirciB, la cucina è uno degli elementi più importanti, per cui è un momento molto importante di addestramento qui nello spazio del Codma. Siamo qui per sottolineare quanto è importante la formazione nell'ambito del volontariato in generale, ma questo perché cerchiamo in qualche modo di essere sempre vicini e presenti nell'appoggiare questo tipo di attività e cercando di agevolare, finanziando questo tipo di attività e facendo possibile per mettere in condizione il volontariato, che è il fiore all'occhiello delle strutture operative, in modo che possa operare, sempre meglio operare nelle situazioni e nei contesti emergenziali. Non è mancata la presenza anche del Comune di Fano. Per l'amministrazione Comune di Fano è un orgoglio ospitare anche quest'anno l'incontro formativo della FirciB, è un evento sempre importante, tenere allenati i volontari di protezione civile è sempre comunque un atto dovuto per essere pronti in caso di ogni evenienza. Siamo contenti, continuiamo a investire nel volontariato di protezione civile, continuiamo a investire nei mezzi, nelle strutture, in maniera tale che la città di Fano possa essere sempre pronta per ogni evenienza.